ben ritrovati alla resegna stampa di oggi giovedì 24 novembre 2016 in diretta alle 7.30 per questo appuntamento dell'informazione locale con i giornali il resto del carino e il Corriere Adriatico che tra poco sfoglieremo con il nostro touchscreen prima però un gesto antico quello di guardare il calendario di vedere che giorno è oggi magari fare anche gli auguri a qualcuno sarà un po difficile oggi perché oggi la chiesa cattolica ricorda 116 martiri vietnamiti in particolare il uno sant'andrea dung lak che è un sacerdote che è nato nel 1795 fu decapitato decapitato perché non voleva abbiurare la sua religione non voleva rinnegare cristo e dunque è stato decapitato insieme a lui anche un altro sacerdote ma giovanni paolo secondo nel 1988 ha dichiarato santi pensate 116 compagni di martirio vietnamiti grazie ai quali oggi possiamo conoscere la figura di cristo non chiacchiere ma avete visto insomma addirittura la vita il sole è sorto alle 7.14 tramonterà 16.36 minuti alle 16.36 il cielo oggi sarà poco nuvoloso ma nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà e ci saranno le temperature che scenderanno nei valori massimi attenzione al vento che aumenterà nel corso della serata soprattutto lungo il litorale fino a vento moderato in serata per quanto riguarda la giornata di domani domani è venerdì 25 di novembre avremo un cielo nuvoloso per nuvole stratificate medio alte maggiori addensamenti sui versanti esposti ad ovest prevalenza di sereno nel pomeriggio nella prima parte della giornata avremo deboli diffuse precipitazioni nelle zone interne occasionali sulla zona basso collinare e su quella costiera poi i fenomeni saranno esaurimento in esaurimento da fine mattinata le temperature in lieve aumento per la giornata di sabato invece venti inizialmente avremo cielo sereno senza precipitazioni vento solo venti che inizialmente saranno sud occidentali di brezza tesa poi in rotazione dei quadranti settentrionali il tempo sarà bruttino insomma nella giornata di lunedì mentre poi seguirà un periodo di tempo stabile guardate questa fotografia queste fotografie siamo sul corriere adriatico la pagina di pesero in primo piano la banda dei bancomat di nuovo all'assalto siamo siamo nella zona di pesero dove torna la paura dei furti e dei colpi al bancomat e alle colonnine dei distributori automatici di benzina che in questo periodo sono diventati davvero il bancomat di questi banditi guardate come hanno ridotto poi non usano le mezze misure vanno arrivano con dei mezzi pesantissimi sradicano tutto spaccano tutto guardate come hanno ridotto la colonnina del sales service del distributore kuwait di questa di strada montefeltro divelta addirittura con una ruspa e questo è quello che quello che è rimasto danni ingenti all'agenzia anche della nuova banca marche i malviventi costretti a scappare però a mani vuote dunque come dicevamo anche nella giornata di ieri in questo periodo a ridosso del natale c'è proprio l'aumento di queste situazioni di furti e non solo la devastazione dei ladri anche questa è la fotografia sul resto del carlino ma gli eventi scatenati rubano una ruspa e poi distruggono un distributore per gli incassi restiamo sul resto del carlino negozi chiusi in centro affitti esosi l'allarme continua turnover ogni due anni restano solo le catene il pasticcio gazebo siamo a pesero poi doppiete sul san bartolo cinghiali da battere dopo 22 anni torna la caccia nel parco lo vedremo tra poco poi sul piromane di fano era un ladro maldestro brava la polizia quindi niente racket per fortuna cameriere pesarese arrestato in tailandia trovate 180 pasticche di anfetamina dove alloggiava e era in vacanza battuta invece battute le iene su italia 1 mica su un altro canale non ricordo quale la fiction dell'acido vince la sfida dell'auditel sopra i 17 per cento di share con 4 milioni e passa di ascoltatori battuta soltanto da una partita di calcio perché si sa in italia tutto può andare male tutto può andare in malore ma non toccate il calcio per carità perché altrimenti qui la fine del mondo questo per farvi capire vabbè comunque questo è un altro discorso parere personale andiamo sulla pagina di fano del resto del carlino piromane incastrato dalle nike le scarpe fondamentali i video registrati e il fiuto naturalmente degli agenti la polizia ha svelato in retroscena delle indagini sui roghi si sta verificando se una serie di furti avvenuti la sera dopo i roghi sia riconducibile allo stesso lettone perché si tratta di un lettone di 29 anni originario appunto della lettonia cittadino italiano accusato dalla polizia di furto aggravato danneggiamento e incendio doloso complimenti ma ora servono le telecamere progetto fano e udc le telecamere che non solo deve devono installare le amministrazioni per controllare certamente le vie di accesso ai centri storici le vie principali delle strade queste sono tutte cose che anche a fano adesso piano piano si stanno facendo e un po tutte le città ma è importante lo abbiamo detto ieri lo ha ricordato in questore ieri mattina durante la conferenza stampa è importante che anche gli esercenti commercianti facciano la loro parte allora un piccolo investimento piccolo grande investimento che sia ma che ne vale la pena perché questo ragazzo questo balordo di 29 anni lo ricordiamo è stato riconosciuto grazie alle telecamere che il proprietario del tiravino aveva installato se non fossero state per quelle immagini oggi probabilmente saremo qui a parlare ancora di uomini di racket di quant'altro invece ci siamo rassicurati un po tutti quanti e grazie però all'intervento delle telecamere quindi gli operatori commerciali sappiano che ormai devono installarle tutti senza distinzione urbanistica senza impiegati e le pratiche vanno a rilento siamo sempre sulla pagina di fano del resto del carlino l'allarme dell'assessore paolini non mi dimetto ma e le pratiche appunto vanno a rilento l'edilizia privata su app prg tutto langue i numeri pubblicati sul giornale 2015 nel 2015 13 pensionamenti ma i neo assunti per legge saranno soltanto 4 a fronte dei 13 appunto che se ne sono andati in pensione via fanella via fanella fano via importantissima rifà il look ecco il nuovo asfalto sono partiti ieri mattina i lavori di asfaltatura di via fanella di cui si parla da anni commenta il sindaco massimo serie da ieri infatti si è aperto questo cantiere con tanto di sopraluogo da parte del primo cittadino lo vedete in queste immagini con l'assessore alle repubbici faesi e al centro un dipendente del comune Gimarra Alta si svolta centro civico e chiesa verso il completamento e poi passaggio a livello siamo a Marotta passaggio a livello ricorso bocciato strada spianata dopo il pronunciamento del tar delle marche alla soppressione del passaggio a livello si erano posti titolari di un vicino camping realizzazione sottopasso ciclopedonale parcheggio e cielo aperto con 60 posti auto c'è pure gaspari oggi a san costanzo per il referendum e uomo e donna a pergola si tolgono la vita purtroppo una doppia tragedia causata dalla depressione è successo è successo in località mezzanotte insieme al fratello avevano a distanza di poche ore si è tolto la vita un pensionato di 84 anni e una signora di 54 questo tutte le informazioni sul resto del carino dicevamo dei cinghiali cinghiali sul san bartolo caccia aperta si spara il cinghiale nel parco manenti dice sono una ventina grossi e nocivi vanno abbattuti previste due postazioni fisse in aree delimitate si sparerà solo da dicembre a marzo e dunque tornano così le doppiette nel parco dopo 20 anni una decisione difficile dicono ma non più rinviabile per la sicurezza dei di tutti e dunque le prede questa volta appunto saranno i cinghiali lucia vince con l'auditel dicevamo la fiction io ci sono in onda su rai 1 battuta solo da civiglia juventus e domani si va in scena per una uno spettacolo teatrale 17 vedo al 53 per cento di share facebook dilagante scontro tra la sorella di luca varani e le amiche di lucia ma il post è stato cancellato nelle fotografie abbiamo avarone che ha interpretato luca varani cristiana capotondi che lucia nibali e sotto la protagonista purtroppo vera quella che non le ha sentite tutte le ferite le ha vissute sulla sua pelle lucia annibali sulla pagina principale invece del corriere adriatico subito vediamo qual è il titolo d'apertura bancomat e benzinai l'assalto è doppio la banda in azione nella notte colpi a pesaro e a san lorenzo in campo tornerò a volare alto il mio salto sarà un sogno parla tamberi quel giorno maledetto non fa più male la stella marchigiana in redazione andiamo sulle pagine interne parliamo andiamo pagina 3 del corriere adriatico un video ha incastrato l'incendiario del dei due ristoranti riconosciuto dal poliziotto lo aveva fermato pochi giorni prima fanno per un controllo il questore laureola dice abbiamo arrestato un cane sciolto il racket non c'entra e sotto alcuni momenti della conferenza stampa con il questore in primo piano e poi tutti gli attori vedete anche i due agenti che si sono subito recati la mattina dell'incendio nei luoghi davanti ai ristoranti poi il dirigente seretti insomma conferenza stampa che tra l'altro abbiamo trasmesso anche in diretta sul nostro canale da varani invece nessun pentimento per questo non merita sconti resa rese note dalla cassazione le motivazioni della condanna c'è stata la conferma ieri a vent'anni per l'agguato con l'acido e lo vedete qui il vero luca varani scortato dalla polizia penitenziaria in tribunale durante un'udienza e allora depositata l'indomani della prima tv del film illegale coli capitolo chiuso per sempre allora adesso la pagina di fano del corriere periodo festivo al via con gli sconti fano gioca la carta del venerdì nero questo venerdì è il venerdì degli sconti avrete sentito parlare vi staranno facendo una testa così col black friday quindi stampate 250 locandine dell'evento commerciale di domani aumenta l'adesione degli esercizi ogni commerciante negoziante decide le agevolazioni e come organizzarsi dice una delle intervistate dal quotidiano per le luminarie invece i commercianti pagano 90 euro gli addobbi vengono estesi alle piazze costanzi e amiani poi via garibaldi e porta giulia ospedale chiaruccia a chiaruccio oppure seri si dimetta dopo la chiamata alle armi anche forza italia come aguzzi e la lista possibile da al sindaco un appoggio condizionato soddisfatta sinistra unita che chiede una rapida convocazione della conferenza di area vasta perché si decida lì il sito del nuovo ospedale la vertenza territoriale sostenuta in regione da pieroni e rapa di uniti per le marche gambini e di parte si dimette invece dall'area vasta la lista nei giovani contro il presidente della conferenza che appoggia muraglia dunque massimo seri sta chiamando il più possibile sta cercando di formare un esercito vorrei che fosse ormai troppo tardi forse questo esercito andava costruito un po prima realizzato è organizzato un po prima comunque vado in soccorso dei migranti siamo a pagina 48 del corriere adriatico l'infermiere del 118 luca guidi si è imbarcato per l'operazione mare sicuro la nave militare borsini pattuglia il mediterraneo per intercettare i barconi ho conosciuto la sofferenza racconta lui questa mattina sul giornale la sofferenza del popolo africano e non posso restare a guardare e da sinistra l'emiliana giulia bagnacani e appunto il fanese luca guidi sotto il procuratore generale macrisi schiera per il no oggi partecipa all'incontro dell'ampia alpino bar aperto dal professor giannelli dalla valle del cesano manca un piano dei parcheggi a mondolfo per residenze e servizi sanitari l'esigenza principale è presso la casa della salute un'infrastruttura da 500 posti e poi da senigallia la dynasty di da maria matilde in casa 5 generazioni di donne da 85 anni il bebè è femmina la famiglia record siamo felici e cocoliamo i nostri uomini mister mancini colpito da malore due città unite tifano per lui antonello mancini 40 anni è l'allenatore della vigor senigallia soccorso di notte l'allarme della moglie operato adesso al lancisi suo vice brunetti dice ha detto fino alla sera prima era tranquillo la visita del presidente l'ultima pagina sempre da senigallia sexy abusi sulla fidanzatina scenate di gelosia prima poi rapporti intimi filmati con il telefonino adesso un giovane appena poco più che maggiorenne è finito a giudizio è accusato di aver ubriacato la fidanzatina minorenne per fare sesso con lei e poi l'ha perseguitata alla fine della loro storia l'imputato avrebbe anche minacciato l'ex ragazza davanti ai compagni di scuola ed è tutto per la rassegna stampa di oggi vi ringrazio per averci seguito vi ricordo che le vostre segnalazioni sono per noi della redazione sempre molto utili importanti ci aiutano nel lavoro e ci aiutano anche ad informarvi meglio ad essere sempre più tempestivi quindi occhi aperti se avete qualche cosa da segnalarci mandateci foto video oppure una semplice segnalazione di testo al numero 338 49 68 250 è tutto grazie per averci seguito ci vediamo stasera alle 20 e 30 arrivederci ci vediamo stasera alle 20 e 30